Grazie a tutti. Allora, il glaucoma è una patologia cronica e come tale è una malattia che crea dei danni nell'arco del tempo e nel caso specifico al nervo ottico. Si può prevenire con una semplice visita oculistica e soprattutto avvalendosi di un esame molto semplice che è la tonometria, cioè la valutazione della pressione oculare. Solo così si può evitare che questa pressione oculare crei ulteriori danni al nervo ottico fino ad arrivare alla cecità, proprio per questo è una malattia invalidante. Questa esperienza che ho avuto in questa settimana è stata entusiasmante. La gente è stata molto attenta e arrivata, sapeva benissimo che cosa era il glaucoma, quindi avevano appreso in modo esauriente da chi si è prodigato di fare informazione, che cos'era la malattia e che cosa grossomodo doveva fare. Quindi è stata disponibile, oltre alla tonometria, anche all'esame del fondo, quindi la valutazione della papilla ottica. Devo dire anche che ho trovato, ahimè, dei pazienti glaucomatosi con una pressione oculare molto elevata. Quindi in questa settimana veramente si è fatta prevenzione a tutto spiano. Quindi il mio consiglio è quello di fare sempre una visita oculistica una volta all'anno e soprattutto a coloro i quali hanno nella propria famiglia persone affette da tale patologia. Perché lì il rischio chiaramente è più elevato. Come associazione di categoria noi abbiamo l'obbligo morale di fare prevenzione. Quindi questa settimana del glaucoma che si è stesa dal 10 al 16 abbiamo cercato di dare più informativa possibile, intanto far conoscere la malattia. In effetti si chiama la malattia del silente perché non dà sintomi. E comunque abbiamo cercato di coprire un po' tutto il territorio provinciale dandone una esatta notizia. Con l'aiuto dei volontari del servizio civile ma soprattutto l'aiuto dei componenti della mia segreteria e dei miei sogni. Perché no? Perché ognuno ha dato la sua parte. Quindi sulla Mezzia l'hanno data i sogni della Mezzia con i volontari. Su Guardavalle dove abbiamo l'altra delegazione i sogni hanno divulgato bene insieme ai volontari del servizio civile. Quindi anche questo è un passaggio molto importante. I progetti del servizio civile. Quindi attraverso la loro voce anche dare questo messaggio di prevenzione. La prevenzione è fondamentale perché è importante la qualità della vita. Quindi più si sta in salute più la si vive meglio la vita. Ma se si cade poi nella malattia è difficile poi la riabilitazione. E i percorsi riabilitativi.